Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sciroppo di limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di limone, zucchero e scorza di limone. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di limone ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciare raffreddare completamente e riporre in bottiglie di vetro. Sciroppo di limone. Ideale per aromatizzare bevande come tè, acqua tonica o bibite cassate o per preparare ghiaccioli e gelati. Diluito con acqua può essere utilizzato come bibita al limone. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!